buongiorno amici e bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 14 settembre 2022 un giorno particolare per tanti tanti ragazzi che iniziano una nuova avventura per quanto riguarda l'anno scolastico sono veramente migliaia gli studenti della nostra provincia che questa mattina cominceranno a frequentare le scuole di ogni ordine e grado a partire appunto dalle scuole elementari su su le medie le superiori e c'è anche poi che aspira all'università e chi intraprende l'ultimo anno per quanto riguarda la maturità un atto un momento importante per la maturità per la maturità a una certa età dei ragazzi quella appunto di una prova importante per la loro sicurezza vediamo subito quali sono le notizie del giorno oggi a partire dall'almanacco e vediamo qual è che cosa festeggia anzi la chiesa cattolica non è un santo ma è un evento è l'esaltazione della santa croce lo vediamo qui nella grafica l'esaltazione della santa croce era una festa che si celebrava addirittura prima che l'imperatore eraclio riportasse la croce nel luogo dove cosroe che era il re dei pensia dei persiani l'aveva asportata 14 anni prima siamo nel settimo secolo la croce era stata lasciata nel santo sepolcro dall'imperatrice elena madre di costantino e il suo ritorno fu celebrato con una grande festa che poi si ripete nei secoli successivi e ancora oggi la si ricorda l'esaltazione della croce quale simbolo appunto della redenzione dei peccati del mondo vediamo anche le previsioni del tempo giriamo la grafica e vediamo la piantina delle marche ancora sole ancora sole su tutta la regione ma fanno fanno la loro comparsa le nubi un tempo stabile con transito di nubi compatte così dicono le previsioni ma senza precipitazioni non pioverà le temperature massime si aggireranno sui 32 34 gradi i venti ispireranno da una direzione meridionale da ovest e sud ovest sulla costa e lo stesso sull'entroterra le temperature insomma vanno dai 22 ai 32 gradi 22 le minime ma sono già passate perché erano le prime ore della mattinata apriamo ora il corriere adriatico sulla pagina di fano vediamo l'apertura si parla delle terme di carignano ci sono particolari per quanto riguarda la ditta che è la proprietà delle nuove terme e che gestirà il progetto di ristrutturazione di tutto il complesso progetto per la clinica terme albergo ora siamo pronti ad incontrare la città lo ha dichiarato l'avvocato natali che è il portavoce della società la gfpf srl gestione spedalità private del gruppo romani che ha già comprato a che già gestisce anzi le le terme di sasso le scusate la casa di salute di sasso corvaro villa montefeltro e poi anche altre quattro strutture sanitarie sparse nella regione marche si tratta di villa anna e villa stella maris entrambe di san benedetto del tronto villa verde di fermo e villa san marco di ascoli piceno sono cinque strutture sanitarie cinque cliniche private che la stessa società che fa parte del gruppo romani come dicevo gestisce in tutta la regione quella che dovrebbe sorgere a carignano sarebbe la sesta dunque un'importante società che ha già un'esperienza per quanto riguarda la gestione di queste cure e a carignano si ribadisce che sarà parti sarà particolare attenzione per quanto riguarda il settore dell'ortopedia un settore che va dalla riabilitazione a tutto ciò che può esigere il mondo sportivo e poi siccome ci sono altri posti letto oltre 50 che vengono dati alla società per questa clinica ci sono altri posti letto 10 già avanzati dalla società che vengono uniti ai 50 il settore che potrà essere oggetto di servizio viene ampliato e quindi la clinica sarà una clinica di poliservizi di polisettori casa rischio lavori di consolidamento di aset e si parla ancora della voragine che si è aperta in via dei borgoggelli nei giorni scorsi a fano via dei borgoggelli in centro resta chiusa a pedoni e veicoli dopo il crollo ebbene i lavori di ripristino sul piano del piano stradale sono più laboriosi delle previsto e ci vorranno alcuni giorni per ripianare il tutto proseguono comunque allacremente i lavori in questo punto del centro storico fanese per mettere in sicurezza l'abitazione interessata appunto da un cedimento il pavimento al piano terra è infatti addirittura sospeso su una voragine scoperta dagli operai della società multi servizio e qui vediamo una foto in questa ecco ve la faccio vedere meglio una foto anche dello scavo che si sta facendo e qua proprio sotto il pavimento dell'abitazione che rimane sospesa sul vuoto che si è creato giriamo pagina e vediamo un episodio di cronaca si tratta di archeologia ma si anche di cronaca perché sono state rintracciate nella casa di un fanese alcune epigrafi romane che erano state sottratte nel parco archeologico di ostia siamo comunque in tempi lontani negli anni 40 sono state recuperate erano scomparse a ostia negli anni 40 questo dice il titolo la restituzione è avvenuta ieri l'indagine è partita da una intuizione dell'archeologa ciuccarelli su un libro ebbene raffaella ciuccarelli che è una archeologa della sovrintendenza di ancona che si occupa anche di tutto ciò che viene ritrovato a fano stava leggendo un libro quando gli è scattata qualcosa nella testa si parlava di alcune epigrafi ebbene la sua conoscenza le sue immagini che si riflettono da un libro all'altro da una fotografia all'altra hanno fatto sì che si riuscisse a identificare quelle epigrafi che già un cultore di archeologia locale aveva menzionato in un suo libro in una sua ricerca nella casa di un fanese e tutto questo ora viene riportato all'ordine e quindi all'istituzione che dovrebbe essere un'efficace e importante collaborazione dunque istituzionale che ha coinvolto la sovrintendenza il parco archeologico e il nucleo speciale dei carabinieri e poi si parla ancora di cultura sul Corriere Adriatico perché ieri sono state presentate sei lastre incise su scenografie di Torelli le ha acquistate il comune dal antiquario Romolo Eusebi per un importo di 12 mila euro si tratta di alcune scenografie importanti di Torelli Torelli è uno dei massimi scenografi del 1600 del XVII secolo lavorò addirittura la corte del re sole e ritraggono gli allestimenti parigini della finta pazza e delle nozze di Peleo e Teti già nella disponibilità del museo le sei nuove testimonianze sono legate a quelle rappresentazioni e ieri sono state presentate appunto dal sindaco massimo serie che è anche assessore alla cultura del comune di Fano e dalle dirige e dalle funzionarie del museo Flavia Casillo e Claudia Cardinali e c'è stato anche un importante incontro nei giorni scorsi nel centro pastorale diocesano di Fano si è parlato di fine vita fine vita adesso più fondi per cure pagliative e ospice la richiesta è partita dal convegno dell'associazione medici cattolici alla presenza del vescovo un'iniziativa appunto che è stata organizzata dall'associazione medici cattolici ma anche dal centro pastorale diocesano di Fano è uno dei temi che è salito di nuovo prepotentemente alla ribalta nei giorni scorsi nella nostra regione quando un 44enne marchigiano tetraplegico da 12 anni dopo un incidente stradale ha deciso di interrompere la sua vita e ogni volta che questo accade suscita sempre delle grandi emozioni proprio oggi i giornali portano della decisione assunta da Luc Godard uno dei mostri sacri del cinema che pur non soffrendo alcuna malattia ha deciso appunto il suicidio assistito il convegno dicevo si è svolto nell'auditorium del centro pastorale diocesano di Fano è stato curato da Mirko Ambrosini e dal dottor Giovanni del Gaiso dell'associazione medici cattolici ci sono stati molti interventi a partire da quello del vescovo Armando Trasarti e poi quello del presidente dell'ordine dei medici Paolo Maria Battestini e poi la lezione magistralis così viene definita compiuta da Giorgio Giovannelli che è il parroco del Duomo sul fine vita una lezione che ha indotto i presenti intervenuti in gran numero a fare profonde riflessioni altri interventi sono stati quelli di Gino Latini della dottoressa Rita D'Urso che esercita la professione medica nell'ospice di Fossombrone è un punto molto delicato perché oltre al dramma dei pazienti anche i medici poi partecipano a quella la sofferenza di chi purtroppo è alla fine della propria vita e poi ancora la dottoressa Cinzia Ceccaroli del servizio legislativo dell'assemblea regionale delle Marche e infine il dottor Del Gaiso che ha illustrato il codice deontologico dei medici. Giriamo ancora la pagina siamo alla Val Cesano a Pergola soprattutto una Pergola ribelle al papato protagonista di Marche Storie la notte dei fuochi in scena da venerdì e anche un omaggio a Pippo De Luigi. Pergola dunque partecipa al festival di Marche Storie promosso dalla regione Marche con l'evento la notte dei fuochi da venerdì a domenica alle 21 e 15 al teatro Angel del Fuoco andrà in scena l'omonimo spettacolo da un'idea di Pippo De Luigi per la regia di Elena Tonelli. Ebbene Pippo De Luigi Veneto è stato ha vissuto per lungo tempo a Roma collaborò con i fratelli italiani esercitola l'impegno di produttore di regista e poi approdò così nelle colline marchigiane per girare la seconda serie della dottoressa Gio e qui si innamorò di Pergola si stabilì e quindi è stato un altro forestiero che si è innamorato del nostro territorio e ora collabora per la sua valorizzazione. Vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di una truffa si finge medico per truffare una suora mi aiuti ho un figlio che sta malissimo. Aveva chiesto denaro a un'anziana religiosa che però non ha abboccato seppur avesse 81 anni ma era molto lucida e molto attenta a non farsi fregare e così è stato è stato denunciato l'impostore. Si tratta di un sedicente primario ospedaliero che è stato smascherato e denunciato un troffatore incallito 61 anni e con alle spalle altre truffe nel suo curriculum residente in Trentino ma domiciliato in Senigallia e c'era stato anche un precedente un precedente sempre compiuto nei confronti di una religiosa alla quale era riuscito a spillare 150 euro però questa volta gli è andata male perché la nuova suora non ha abboccato. E poi vediamo anche un'intervista che ha rilasciato al Corriere Adriatico la reginetta di Miss Italia che è in scadenza. Miss Italia è stata una delusione ha dichiarato. Ne parliamo perché le prossime preselezioni si terranno affano. Niente tv voglio diventare un medico. Una dichiarazione più realistica e pragmatica rispetto appunto al panorama di illusioni forse che crea il concorso. Emma Calì reginetta delle Marche nel 2021. Alle prefinali nemmeno una sfilata ha dichiarato. Ora penso alla università. È stata sicuramente bella, divertente e intensa ha dichiarato questa esperienza ma si è fermata lì. Non nego una punta di delusione però ci sta, fa parte del gioco. Insomma ora finito questa bella esperienza si chiude una parentesi e si ricomincia a vivere la vita di tutti i giorni. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi sul Corriere Adriatico dove si parla di emergenza medici. Eccolo qua il titolo. Ci sono due pagine dedicate alla sanità oggi sul Corriere. Si parla dell'emergenza medici perché il problema del personale continua a essere veramente un problema, una grande difficoltà per la gestione di Marche Nord. Emergenza medici, una gara da 13 milioni per le cooperative. L'unica risorsa, l'unica speranza dato che i concorsi per i medici sono risultati negativi, ora si pensa alle cooperative. Oltre al pronto soccorso, la grave carenza è quella di pediatria per la riapertura a San Salvatore. L'appalto di Marche Nord per un anno è prorogabile per altri due fino a 9 mila turni. Insomma è una importante iniziativa per il rinfoltimento dell'organico ospedaliero. Una gara europea suddivisa in due lotti per la copertura nei presidi di Pesaro e Fano in un anno di 1140 turni medici, non sono 1140 medici, sono turni medici, di 12 ore al pronto soccorso, 1160 invece per 12 ore a pediatria. Servizio prorogabile dell'azienda per altri due anni con l'opzione di acquisto del 30% di ulteriori turni per la durata massima di tre anni. Il prezzo a base d'asta, che viene appunto proposto alle cooperative, è di 1450 euro a turno per una spesa annuale per il pronto soccorso di 1.653.000 euro e un importo massimo complessivo stimato di 6.446.700 euro. Sono comunque cifre importanti. E intanto a Urbino si organizza una manifestazione di protesta. Sono gli invisibili della sanità a farsi vedere. Il presidio è organizzato da Nidil e CGL a Urbino insieme ai precari. Si tratta di una quarantina di lavoratori precari da dieci anni che prestano servizio all'area vasta 1 e che vi gravitano attraverso la Randstad Spa, i quali hanno protestato ieri mattina davanti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino. Chi protestava si occupava di vari servizi, dal centralino al CUP e dalla segreteria dei laboratori analisi fino ad essere magazzinieri ed autisti. Il presidio, come dicevo, è stato promosso dalla CGL di Pesaro Urbino per chiedere migliori condizioni contrattuali per questi precari. E poi per quanto riguarda il Santa Croce vediamo una protesta. Protesta un utente che al laboratorio analisi si è visto recapitare il referto dei propri esami non in busta chiusa ma all'aperto, insomma con un problema per quanto riguarda la sua privacy ed è questo che lui denuncia. Comunque l'organizzazione del laboratorio analisi di Fano oggi funziona, è migliorata molto rispetto al passato ma c'è da risolvere anche questo problema per quanto riguarda qualche funzionario, qualche dipendente insomma che non è proprio ligio alle disposizioni ricevute. Fede, onore e disciplina. Un'altra bufera su Filissetti. Chi è? Filissetti è il responsabile regionale della scuola marchigiana. Ebbene Filissetti sarà a Pesaro oggi per inaugurare l'anno scolastico ma le sue dichiarazioni non sono piaciute né a molti studenti né a molti professori né a molti politici. Insomma sono dichiarazioni che dimostrano una certa, secondo alcune interpretazioni, una certa nostalgia del ventennio. Vediamo quali sono queste dichiarazioni. Fondare l'impegno a scuola, ha detto, sull'adempimento del dovere con fede, onore e disciplina ma anche non arrendersi momenti in cui tutto attorno sembra rovinare, tutto sembra buio, se non altro perché nel tempo a venire i vostri bisnipoti sappiano almeno che ci fu chi non alzò le braccia ma continuò a battersi. Ebbene, sono dichiarazioni piuttosto roboanti, piuttosto forti che vengono interpretate in senso politico appunto da chi ha ascoltato queste parole. Un altro episodio di cronaca. L'impiegata ha rubato 150 mila euro ad un'azienda nel corso di diversi anni ma il giudice l'ha condannata a restituirne solo 900 e di qui ovviamente lo sfogo dell'imprenditore che si è visto risarcire con una cifra minima rispetto a quanto sottratto dalla dipendente infedele che ha patteggiato 20 mesi ma non è andata nemmeno in carcere. Condannata per appropriazione in debita la dipendente infedele, l'azienda per cui lavorava si vede restituita solo 900 euro rispetto ai 150 mila sottratti spicci, spiccioli, anzi spicci, poca cosa. La protagonista è una cinquantenne pesarese e viene nominato soltanto il nome di battesimo e l'iniziale del cognome, Sara M., condannata appunto perché ha effettuato tra il 2015 e il 2020 bonifici dal conto corrente della ditta al suo e quindi insomma non appare una pena adeguata. L'assessore regionale Stefano Aguzzi interviene sul San Benedetto l'ex manicomio di Pesaro, la regione non è in ritardo, ha dichiarato però non vogliamo cattedrali nel degrado. L'assessore assicura che troverà i fondi per la riqualificazione però prima deve impegnarsi il comune, cioè lo farà dopo i lavori del comune. Un'ultima notizia per quanto riguarda Urbino, Raffaello Gravel per scoprire territorio ed enogastronomia. È una bella immagine, una bella iniziativa sportiva quella che viene assunta ad Urbino e si riferisce a escursioni in bicicletta su due percorsi con finalità turistiche e di benessere. Una domenica dunque all'insegna delle due ruote ecologiche che si prespetta ad Urbino e il paesaggio di Urbino ovviamente ha tante opportunità di suggestionare i partecipanti che meritano di essere vissute e partecipati. Apriamo anche il resto del Carlino sulla pagina di Fano dove ritroviamo i due articoli che riguardano le pigrafi romane trafugate a Ostia e sequestrate a casa di un professionista fanese e l'acquisto da parte del comune delle scenografie del Torelli, le lastre incise appunto con le scenografie di questo grande artista, di questo grande architetto a cui poi si deve anche il Teatro della Fortuna, il vecchio Teatro della Fortuna dove attualmente si trova la Sala Verdi. Invece nella seconda pagina vediamo il sindaco impegnato con il caro Bollette. Non solo le famiglie e le imprese hanno a che fare con questo problema ma ha a che fare anche il comune di Fano. Il caro Energia presenta il conto, 3 milioni in più, Seri dichiara. Così il comune rischia la banca rotta. L'allarme del sindaco è impossibile recuperare risorse dal bilancio corrente. Chiedo interventi straordinari allo Stato. Comunque sono prospettive fosche anche per l'amministrazione comunale. Già individuati dei provvedimenti, alcuni drastici pronti a confrontarci con altri enti, ha dichiarato il sindaco un'altra tegola che si abbatte sulla giunta che ora ha problemi finanziari, problemi economici da risolvere. Cantieri nelle scuole comunali, torniamo agli spazi pre-Covid. Il rientro in classe è molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso quando ancora l'incubo del Covid gravava sulle aule, sulle imposizioni delle mascherine, delle distanze, eccetera. Quest'anno la situazione è più lieve e quindi più tranquilla per gli studenti. Ancora la voragine in centro. Gli sfollati ospiti di Aset verranno ospitati in un albergo. Sarà l'azienda a pagare le spese alla famiglia residente di Via dei Borgoggelli, dove è avvenuto il crollo. Lo ha dichiarato il presidente di Aset, Paolo Reginelli. Vallata più sicura a Orciano arriva al 118. La pote sarà attivata dal 1 ottobre nel centro salute Carlo Amodio. È la prima volta risultato storico per il territorio. Ebbene, il sindaco Sebastianelli ha di che esultare per questa conquista. Una conquista che dovrebbe essere la normalità. Invece è proprio una eccezionalità per quanto riguarda Orciano. avere la disponibilità di un 118, di un servizio di pronta emergenza che possa intervenire quando la salute è in grave pericolo. È un risultato strategico anche per gli abitanti dei comuni vicini, ha dichiarato Sebastianelli. Fino ad ora le ambulanze impiegavano 20 minuti per arrivare dove era necessario. E se per caso accadeva un infarto, sapete come questo tempo lungo causava dei problemi. Perché lì bisogna intervenire nel giro di 5-6 minuti. Sanità protestano i precari dell'ospedale di Urbino. Ne abbiamo visto. Si tratta di una manifestazione che è stata organizzata da magazzinieri, autisti e cassieri. e circa una quarantina di lavoratori precari che hanno protestato, grazie anche all'organizzazione del loro sindacato, per la precarietà di cui sono stati fatti oggetto. Sulla pagina di Pesaro, del resto del Carlino, vediamo la scuola, ovviamente oggi la scuola fa testo, la prima campanella in ufficio alla Scavolini. Niente lezione classica per cinque ragazzi del Bramante Genga, che cominceranno l'anno in maniera particolare, in maniera eccezionale, diversa da tutti gli altri. Non andranno in aula, ma andranno alla Scavolini. lavoreranno sulla progettazione di cucine in completa autonomia. E' quindi una scuola lavoro che si compenetra in maniera efficace. E poi ricomincia la scuola per 46 mila studenti. I riti del Covid sono un lontano ricordo, come vi avevo detto. Un niente più controllo del Green Pass, addio mascherine, distanziamento archiviato. si ritorna alla normalità. Nonostante che il Covid però ancora esista, e ancora ammieta vittime, ancora aumenta, accelera i contagi, quindi bisogna stare attenti. Aumenta no, perché sono diminuiti, ma bisogna stare attenti. Questo è importante, perché non bisogna sottovalutare questa insidia sottile, che non si veda, ma quando arriva si sente, e si sente piuttosto problematicamente. Bimba cade in hotel, famiglia chiede i danni, non vi risarciamo, perché siete bielorussi. E questo è un altro problema, un articolo da leggere a conclusione della nostra rassegna stampa. Chiudiamo i giornali, questo è tutto per oggi. Massimo Foghetti vi saluta, e vi dà appuntamento a domani alle ore 7. Questo è tutto per il momento. A risentirci. A risentirci.